Buonasera a tutti, iniziamo con la conferenza stampa, faremo prima le domande per l'allenatore e dopo quelle per il calciatore. Inizio dai due cronisti italiani presenti e poi per alzata di mano potete fare. Buongiorno, buongiorno a tutti. I ragazzi sono state per il coach e poi il campionista Rik Kastor. Mourinho, oltre al risultato, avviste nelle ultime due partite una squadra in crescita? Spero di sì, sono sette partite di fila in Serie A senza sconfitta. le due ultime vittorie la squadra è stata bene dal primo minuto atteggiamento concentrazione dal primo all'ultimo e questo quando tu giochi una competizione adesso di eliminatoria ogni minuto ogni dettaglio è importante un calo di concentrazione che ti può fare essere eliminato e questo mi dà speranza, la squadra sta bene solo Spinazzola non è disponibile viaggiamo con un gruppo completo ovviamente una sorpresa per me perché è la prima volta che gioco in Olanda con un campo che non è da calcio sempre che venga d'Olanda venga d'Olanda da più di 20 anni sempre campi bellissimi non lo so che è successo qui sarà molto molto difficile di giocare non capisco veramente come si può giocare però veniamo per fare risultati e cercare di stare in quarta di finale con il Slechte verrassi. Ho scato il voetballo, ho scato il voetballo. Ho ho venuto 20 anni per l'Hollanda e spielo sempre in un buon voetballo. Il nostro corso è molto scato, è un po' di non lo che è successo. Ma abbiamo comunque visto questo, per quanto riguardano la concursione. Buonasera, Mourinho. Intanto ben tornata anche a parlare, ci è mancato un po', insomma. A me non mi è mancato niente. Un po', cosa che volevo sapere. Lei ha recuperato adesso tutti i giocatori. Il fatto di far giocare insieme Pellegrini, Mkhitaryan, Zaniolo e Abram mi immagino che sia una delle cose su cui lei ha lavorato di più, suppongo, perché sono quattro giocatori che tutti e quattro insieme possono fare la differenza per questa squadra. È riuscita a trovare in questo senso un equilibrio con questo sistema di gioco e pensando alla partita di domani, è una di quelle partite dove pensa di poter fare turnover oppure a questo punto punta sui giocatori migliori che ha a disposizione e va avanti con quelli? Io punto su tutti quelli che lavorano bene e che in questo momento è una cosa che si sente da dentro è che tutti stanno lavorando bene, che tutti stanno in buona forma. L'ultima partita per esempio è stata una delle poche partite dove abbiamo fatto cinque cambi. Perché abbiamo fatto cinque cambi? Perché la panchina era una panchina piena di qualità e per tanti mesi durante questa stagione si guardava la panchina e arrivavamo in difficoltà perché mancava uno, mancava un altro, era il Covid, era l'infortunio, era sempre qualcosa. Oggi abbiamo una rosa che sta forte, che sta insieme, che abbiamo obiettivi perfettamente chiari. Avevamo tre obiettivi diversi, oggi abbiamo due, non c'è capitale per noi. Abbiamo un campionato per trovare la miglia posizione possibile, però in quello spazio lì dal quarto all'ottavo sono tre punti di qua, quattro punti di là, uno di qua, uno di là. Sappiamo che ogni partita è una partita decisiva per noi. Io in questo momento sono contento con i giocatori, per questo parlare di turnover non sarà un turnover, non sarà un turnover, sarà possibilmente un altro giocatore con una storia clinica, con una storia clinica di qualche problema e momenti di accumulazione e poco di più. e cercheremo di giocare con una squadra forte, che sarà sempre forte e con una pancina ugualmente forte, con cinque cami da fare. Pellegrino, Mkhitaryan, Abraham e Cagniolo spieghiamo tutti. Grazie a 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 tutti. Volevo chiederti invece il fatto che sei qui, non so se già sai che giochi titolare domani perché se rappresenti la Roma oggi, ma la cosa che ti volevo chiedere al di là degli scherzi è, tu hai raggiunto ormai un livello alto di rendimento. Ogni tanto succede che c'è l'errorino per la disattenzione, per un momento di distrazione. Alla Roma è capitato, non solo a te ovviamente, ma quest'anno a diversi calciatori in certi momenti di perdere delle partite per degli errori di distrazione. È un livello secondo te che state piano piano raggiungendo? Vale per te, ma vale anche per i tuoi compagni? Ti senti che stai salendo di livello per arrivare a un livello ancora più alto dove ci sono quei difensori che praticamente non sbagliano mai? Soprattutto in fase difensiva, dico. Questo è tutto. Sì. La domanda è stata una domanda di spazio di spazio e poi avete un alto livello. Ma ci sono sempre piccoli fatti. Non solo di te, ma anche di loro. delle proglie, delle piccole detailles che possono roma in una nederlagge. Penso che il proglie e anche il proglie di più di più? Grazie a tutti. Non c'è nessuna domanda, non c'è nessuna domanda, non c'è nessuna domanda, non c'è nessuna domanda. Sì, per quanto riguarda la prima domanda, non so ancora se domani partirò dall'inizio. Invece per quanto riguarda il resto, secondo me, non c'è nessuna domanda. È normale, è umano avere alti e bassi, è capitato anche a me in questa stagione. Probabilmente non ero neanche abituato a giocare con questa continuità, però un bilancio lo faremo alla fine. Adesso dobbiamo inseguire i nostri obiettivi da qui alla fine della stagione, che sono, come dicevo, in campionato, il più in alto possibile, la Conference League. Do you have a moment of a minute? Non c'è nessuna domanda, non c'è nessuna domanda? Denk ciò che è un giorno con la campion dell'anno. Non, c'è nessuna domanda. Il raro da l'anno trazione di ogni volta 30 minuti. È molto bene la campionato delle scuole, però anche in questi campioni. È molto bene la campionata di tre, ma non c'è nessuna domanda. È molto bene la campionata della campionata della campionata. È molto bene la campionata della campionata in tessera il loro gioco. Questo è un speciale trainer, è che non è stato un trainer che io non ho avuto? Questo è un trainer che io non ho avuto più oltre. Come ho ho visto, per me, per me, per me, a casa, vedo 30-40 met me. Questo è anche molto speciale, ma è sicuramente un speciale trainer. Grazie. Grazie mille a tutti. Grazie.